Tempo di assunzioni per la SST di Lecco che rafforza il suo organico dopo mesi in prima linea nell'emergenza coronavirus. 11 i medici assunti a tempo indeterminato per il reparto di anestesia e rianimazione. 8 di loro prenderanno servizio all'ospedale Manzoni di Lecco, 3 al Mandic di Merate. 6 invece le assunzioni di medici per il reparto di medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza, 3 a Lecco e 3 a Merate, oltre a due specializzandi con contratto fino al conferimento del titolo di formazione specialistica. Nel piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale sono stati assunti 31 infermieri che prenderanno in carico i bisogni dei pazienti fragili nella loro complessità. I primi 4 urgentisti dovrebbero prendere servizio già a partire da questo mese, mentre le altre assunzioni si concretizzeranno dai primi di settembre in poi. Per quanto riguarda gli infermieri, i contratti a tempo indeterminato partiranno dal 1 gennaio 2021 come da normativa di legge, ma fino ad allora sarà possibile usufruire dai contratti a tempo determinato. La SST di Lecco ha proceduto a deliberare l'assunzione di 50 operatori sanitari con l'obiettivo di rafforzare le risorse umane operanti nell'azienda, commenta Paolo Favini, direttore generale della SST di Lecco. La volontà dell'azienda è quella di integrare e potenziare il proprio organico nell'ambito dei due settori che in questo momento si reputano di maggior sofferenza, anestesia e rianimazione e medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza. Pertanto inseriremo nel nostro organico 19 medici che opereranno nei nostri presidi di Lecco e Merate. Il personale infermieristico che prenderà servizio da gennaio 2021, conclude Favini, corrisponde ad una politica aziendale tesa al rafforzamento dell'assistenza direttamente a casa dei propri utenti.